Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde In questo video vi farò vedere un nuovo Wallbridge con la patch 1.31 Non so se questo Wallbridge funziona anche su Playstation 3 e Xbox 360 Se volete potete testare su Old Gen e scrivere fra i commenti se questo Wallbridge funziona anche su Old Gen Dovete semplicemente, vi consiglio di fare un po' di casino prima di entrare all'interno del Wallbridge Perché all'interno del Wallbridge non si può sparare, cioè si può sparare ma i colpi non soppassano il muro E non si può attirare la tensione degli sbirri per il semplice motivo che i colpi esplosivi non potete spararli Ma si può solamente sparare qualche colpo di cecchino ma senza attirare gli sbirri Quindi cosa dovete fare? Attirate un po' la tensione degli sbirri prima di entrare nel Wallbridge per fare i repi infiniti Quindi una volta che avete gli sbirri dovete semplicemente entrare dove c'è questa porta Adesso ragazzi vi mostrerò anche la locazione di questo Wallbridge Per entrare in questo Wallbridge dovete ricarvi in questa locazione che vi sto mostrando ora Una volta fatto ciò entrate da quella porta dove sono entrato appena ora io E quindi all'interno di questo Wallbridge sarete immortali e non potete sparare Se non che con il cecchino ma non potete comunque sorpassare il muro Quindi non potete killare la gente Vi consiglio di utilizzare questo Wallbridge per divertirsi con gli amici in sessione Per trollare la gente in free mode Comunque sia per essere immortali o sopravvivere alle taglie senza morire Quindi ragazzi per uscire da questo Wallbridge dovete semplicemente andare appunto dalla porta dove siete entrati E quindi ragazzi potete uscire da questo Wallbridge senza suicidarvi Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale Se volete passate nella mecca di Warcover e troverete il link in descrizione per giocare insieme E inoltre se volete aggiungimi il mio online PC4 e Warcover sempre iscritto in descrizione E da Warcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!